Il 28 dicembre si esibirà a Valle Castellana la banda Marcuzzo. Quale sarà lo spettacolo che vedremo in quella giornata? Allora, il 28 dicembre alle ore 18 nella chiesa di Valle Castellana, della Santissima Annunziata, una chiesa molto bella, molto antica, con degli affreschi. Ci sarà questo concerto, allora esibiremo dei pezzi natalizi e anche dei pezzi popolari e poi ci saranno anche dei pezzi classici, ci sarà anche l'intervento di una cantante lirica con Sergio Capoferri, il maestro, e Davide Guaiani che dirigerà la banda. Da quanti elementi è composta? 20, circa 20 elementi. Avrete dunque la possibilità di far divertire e far gioire non soltanto Valle Castellana ma tutti coloro che arriveranno? Sì, penso di sì, io invito tutti a venire a Valle Castellana a questo bellissimo concerto. Nell'ambito di Abruzzo dal vivo winter, cosa dobbiamo aspettarci invece a Castelli? Allora, il programma sarà molto interessante. Domani sera alle 21 nella nostra chiesa madre, la chiesa di San Giovanni Battisti, sarà il concerto di Natale dei Solisti Aquilani, accompagnati dall'orchestra del Conservatorio Casella dell'Aquila, quindi un grandissimo evento. Ci fa piacere che si svolga all'interno di questa chiesa che è praticamente la prima opera pubblica che è stata recuperata dopo il sisma. Poi continuerà domenica con un altro concerto di Natale della Corelli Chamber Orchestra e domenica 29 ci sarà il concerto della banda Minervini, quindi tre importanti concerti di Natale in questa location meravigliosa e insomma approfitto delle vostre telecamere per invitare tutti a Castelli che comunque di per sé è sempre magica e va apprezzata.